eccoci che dire questo punto mauro biglino quasi non ha bisogno di presentazione ha tradotto 19 libri dell'antico testamento cioè della bibbia direttamente dall'ebraico per conto dell'edizione san paolo non una casa editrice qualsiasi la principale casa editrice cattolica italiana nel corso delle sue traduzioni ha scoperto quello che ci sta scritto veramente nella bibbia e non è una scoperta da poco quello che ha scoperto ce lo racconta adesso nel corso di questa intervista serratissima più di un'ora un'ora un quarto senza riempitivi a tamburo battente fitta fitta di contenuti eccoci come promesso finalmente in linea niente poco di meno che è mauro biglino grazie mauro per aver accettato il mio invito benvenuto anche da parte di tutti gli ascoltatori di tempo di cambiare allora beh tanto grazie a te ovviamente che mi hai invitato un saluto agli ascoltatori ma insomma niente poco di meno che mi sembra esagerare il grande mauro biglino mauro dici chi sei e qual è il tuo background a beneficio di quelli che per assurdo eventualmente potrebbero non conoscerti dico fra i nostri ascoltatori che bene o male penso ti seguono ok allora cerchiamo di ovviamente di fare una sintesi rapida e dunque insomma io dall'età del liceo classico mi sono sempre interessato diciamo alle religioni alla filosofia insomma un po' alla storia del pensiero umano poi ovviamente necessariamente quindi alla storia la storia del medio oriente alla storia dell'oriente eccetera e quindi proseguendo poi insomma nel coltivare questi miei interessi personali a un certo punto ho sentito il bisogno di arrivare un pochettino a quella che possiamo considerare la fonte di quello che è il pensiero religioso occidentale e quindi di accostarmi ai testi ebraici per fare questo dopo aver studiato ovviamente il latino e il greco negli studi classici e ho studiato comunità ebraica della città in cui in cui abito e poi ho cominciato a tradurre in un modo assolutamente fortuito diciamo così le mie traduzioni sono state viste dalle dalle edizioni san paolo che è una delle più importanti case editrice cattoliche italiane e hanno in sostanza hanno cominciato a darmi dei lavori redazionali sulla loro collana bibbia ebraica interlineare che loro intanto avevano aperto dopo i primi lavori redazionali quindi di controllo sui testi eccetera mi hanno affidato invece lavori veri e propri di traduzione quindi io per loro ho tradotto 19 libri dell'antico testamento dal codice dalla bibbia stud cartensia che è la versione a stampa diciamo così del codice masoretico di leningrado ho tradotto 19 libri 17 sono stati pubblicati gli ultimi due che hanno ancora mi risulta non siano più stati pubblicati perché nel frattempo io ho iniziato a scrivere i miei libri biblici diciamo no quei quei saggi che sto scrivendo di argomento biblico e ovviamente il rapporto con loro si è interrotto immediatamente perché capisco che loro non possano avere come loro traduttore uno che scrive e dice le cose che scrivo e dico io e quindi insomma io provengo di lì quindi insomma tutto il mio lavoro proviene da questi anni di traduzione professionale fatta per loro sulla base di incarichi che prevedevano che io facessi una traduzione letterale ed è proprio da questa traduzione letterale che ho cominciato a evidenziare insomma tutta una serie di aspetti che sono quelli di cui parlo nei miei libri cioè tu hai fatto delle traduzioni i testi che hai tradotto alla fine sono sempre gli stessi però stavolta ne sono usciti fuori dei risultati a dir poco sorprendenti allora la domanda che ti faccio è perché cioè cos'hai fatto tu di diverso rispetto a coloro che hanno tradotto prima di te e come facciamo a essere certi che siano attendibili le tue traduzioni ricostruzioni così controverse diciamo così allora diciamo questo che quando si parla di lingue antiche beh la certezza è una come dire è una sensazione che dobbiamo un pochettino accantonare no perché la certezza non c'è mai ricordo una frase del professor garbine che ordina era ordinario di filologia semitica all'università la sapienza di roma il quale io seguo sempre i suoi studi le sue pubblicazioni e lui in un libro scriveva che quando si parla di lingue antiche neppure l'accordo di tutti gli studiosi della terra sul significato di un termine garanzia di certezza no quindi ciò detto dobbiamo dire che la certezza assoluta se vogliamo non ci può essere ovviamente per le mie traduzioni ma neppure per quelle degli altri cioè neppure per quelle che da duemila anni vengono date per certe questo ovviamente è un criterio che vale per tutti dove sta la differenza sostanziale è che chi traduce avendo in testa una come dire un preconcetto diciamolo pure anche questo termine in senso positivo cioè sa già esattamente dove vuole arrivare diciamo di ordine teologico o di ordine esoterico iniziatico o quant'altro allora quando trova un certo termine faccio l'esempio quando trova il termine kavod dice questa è la gloria di dio bene quando io invece che traduco da ho tradotto da laico e ho tradotto avendo l'incarico di fare la traduzione letterale se trovo kavod kavod dico che kavod significa oggetto pesante e quindi quando mosè vede una certa cosa che per i teologi è la gloria di javè io dico che mosè vede un oggetto pesante di javè ecco in questo senso ma kavod è sempre kavod per tutte e due mi spiego sia per me che per i teologi o gli esoteristi o quant'altro allora la differenza dove sta sta nel fatto che io cerco di rimanere il più fedele possibile al significato letterale del testo senza introdurre elaborazioni successive finalizzate a far passare una certa dottrina che invece quello che ovviamente è stato fatto e viene tuttora fatto ma non soltanto dalla chiesa cattolica no perché poi normalmente cioè facile uno dice ah beh la chiesa cattolica sono duemila anni che ci racconta favole no cioè le favole hanno cominciato a raccontare i sacerdoti ebrei continuano a raccontarcele anche una parte di loro le favole molte favole ce le racconta anche certo mondo esoterico cioè quindi in realtà allora diciamo che io faccio finta lo dico sempre nelle conferenze che quando la bibbia dice una cosa quella autore biblico volesse dirci proprio quella invece negli altri c'è questo atteggiamento quando la bibbia dice una cosa in realtà ne vuol dire un'altra e in quest'altra ognuno ci mette la sua verità questa è la differenza sostanziale molto interessante molto interessante prima di proseguire su questa su questa via vado un attimino off topic a fare una domanda parzialmente off topic nel pubblico di questo podcast ci sono tanti liberi pensatori tra virgolette alcuni dei quali sono anche detti complottisti o cospirazionisti vanno a studiare la parte occulta della storia o dell'attualità e insomma per farla breve in internet circola un dibattito per così dire su una tua eventuale passata affiliazione alla massoneria da cui poi ti saresti distaccato per me questo di per sé per me personalmente non significa assolutamente nulla però a beneficio di coloro che stanno speculando che potrebbero esserci degli scoppi occulti in tutto quello che fai a causa di queste tue adesioni passate o presenti credo che questa sia la tua chance di dire la tua su questa vicenda va bene va bene cioè l'ho già detto alcune volte ma poi so bene che per quanto uno possa dire poi chi vuol credere certe cose continuerà a crederle perché ovviamente ma è normale fa parte del gioco quindi non è un problema allora circola il dibattito su una mia figliazione massonica perché la mia figliazione massonica è dichiarata è stata dichiarata da me cioè il dibattito circola perché io in un dialogo non mi ricordo più insomma da qualche avevo scritto allora appunto che siccome io sono stato in massoneria certe cose le conoscevo dall'interno eccetera bene quindi sono io che l'ho dichiarato non perché qualcuno l'abbia scoperto ma oltretutto io dichiaravo la mia appartenenza quando c'ero dentro nel senso che io non l'ho mai nascosta perché è assurdo nascondere una propria appartenenza ad un ordine come come quello io ne sono uscito circa dunque dieci una decina di anni fa diciamo così sì più o meno dieci dieci undici anni fa ci sono stato dentro per per parecchi anni appartenevo a una delle due grandi obbedienze regolari italiane una la più grande il grande oriente d'italia l'altra è la gran loggia d'italia io appartenevo alla gran loggia d'italia degli alam cioè degli antichi liberi accettati muratori che è un'obbedienza tra l'altro cui circa il 32 33 per cento è costituito da donne perché questa è una delle cose anche che non che spesso che spesso non si sanno quindi insomma il 30 per cento di questa grande obbedienza è costituito da donne e quindi io parte io appartenevo a questa ci sono stato un certo numero di anni dopodiché sono uscito perché non non mi interessava più starci sì e quindi io dichiaravo la mia appartenenza quando c'ero l'ho in assoluta tranquillità dichiarata dopo dicendo punto ricordo che insomma quando c'ero dentro e perché insomma si dicevano delle cose che non corrispondevano ovviamente a verità perché poi sulla massoneria perché poi si confonde si mette dentro tutto voglio dire ci sono le obbedienze regolari e alle quali tra l'altro consiglierei questi complotisti di ci pare proprio perché almeno così si rendono conto dall'interno di cosa è veramente al di là di ciò che viene detto e poi ci sono come dire ci sono delle obbedienze diciamo così non regolari non conosciute non riconosciute sono centinaia sono in Italia sono più di cento di queste obbedienze qui ma sono obbedienze spesso formate da 50 persone 250 persone 200 persone che si autodefiniscono massoni ma non sono massone riconosciute da nessuno da nessuna obbedienza regolare mondiale bene e allora la massoneria è una grande costellazione una grande galassia dove dentro c'è il buono e c'è il cattivo come ovunque poi ci sono ovviamente se ci sono i cosiddetti e ci sono ovviamente perché ci sono in tutte le categorie i cosiddetti deviati beh quelli sono i delinquenti ma quelli sono criminali di per sé in quanto sono criminali come uomini non non in quanto massoni perché la massoneria in sé ha dei principi sociali che devo dire se fossero applicati farebbero cambiare un po' il rapporto tra gli uomini e aiuterebbero tutti a vivere meglio il problema è che purtroppo la massoneria è fatta da uomini e gli uomini alle volte proclamano dei principi poi non li rispettano è lo stesso questo fa parte del gioco quindi questo è poi lo so allora io penso di essere uno degli italiani più fortunati in questo momento perché in questo momento di grande crisi se io leggo in rete cosa si dice di me io ho un sacco di datori di lavoro cioè io lavoro per la massoneria lavoro per i raeliani lavoro per gli illuminati lavoro ti dico francamente ah sì sono un rabbino che opera sotto copertura lavoro per il vaticano quindi addirittura viene detto che io lavoro per il vaticano cioè quindi ho un sacco di datori di lavoro e la cosa bella è che i miei amici che sanno come è nata questa cosa qui dei miei libri ecco quando vedono queste cose qui eccetera cioè si fanno un sacco di risate perché se poi se poi vuoi ti racconto come è nata questa cosa dei libri insomma perché veramente è a del ridicolo tutto ciò che viene detto e scritto magari adesso perché no se riesce a sintetizzarlo sì sì lo sintetizzo molto molto semplicemente allora io dicevo appunto ho cominciato a tradurre per conto mio poi siccome le edizioni san paolo avevano cominciato a pubblicare questa collana della bibbia ebraica interlineale allora io mi sono detto vabbè io traduco per conto mio tra l'altro mi sono riscritta la genesi in ebraico tutta a mano a matita per allenarmi a conoscere bene la lingua me la sono riscritta a matita e me la traducevo a matita quindi ho un quaderno con tutta la genesi di scritta a mano ecco allora il il ho comprato il primo di questi loro libri e mi sono detto io io per conto mio traduco due tre quattro versetti poi vado a vedere come loro traducono e così vedo quante cazzate faccio bene ho cominciato a fare così e ho visto insomma che in realtà insomma la cosa andava abbastanza bene poi un giorno ho visto in una loro traduzione insomma mi sembrava che avessero saltato un prefisso siccome sui loro libri c'era una email gli ho scritto dicendo insomma mi scuso per così traducendo mi è parso di vedere che loro mi hanno risposto correttamente in 24 ore dicendo guarda abbiamo controllato lei ha ragione ne terremo conto nella prossima edizione se trovasse altre cose ce le segnalate non è capitato che tutti i giorni uno si ricopia a mano la bibbia e segnala gli errori di traduzione sicuramente allora io sono andato avanti a tradurre e avevo trovato altre due o tre cosette glielo segnalate loro mi hanno di nuovo risposto dicendo guardi abbiamo controllato lei ha ragione la ringraziamo eccetera 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 poi passa un po' di tempo loro mi scrivono dicendo sente sarebbe possibile verificare qualche sua traduzione vedere come lei traduce allora io ho preso 5 pagine di quel quaderno scritto a mano ho fatto le fotocopie le ho infilate in una busta e glielo spedite dicendo beh tanto non capiranno neanche quello che c'è scritto quindi figuriamoci in realtà loro mi hanno risposto dicendo guardi abbiamo visto che lei traduce esattamente come noi avremmo piacere di conoscere e così è cominciato il rapporto io per anni appunto per un po' di anni ho tradotto per loro tradotto appunto questi 19 libri e man mano che traducevo facendo questa traduzione letterale ovviamente mi venivano fuori delle cose che non mi tornavano rispetto a ciò che diciamo così ci viene normalmente raccontato e cosa succedeva? succedeva che ovviamente siccome condivido una serie di interessi culturali con altri amici quando ci si trovavano erano gli amici stessi che mi dicevano ma senti allora come vanno le tue cose insomma raccontaci e allora io raccontavo nel gruppo di questi amici c'è uno che fa di professione l'editor cioè lavora per diverse case editrici quindi fa il lavoro di editing per varie case editrici che mi ha detto ma senti un po' queste cose qui avresti voglia te la sentiresti di mettere per l'iscritto? è ok molto bene ma a monte di questo c'era questa esigenza tua di esprimerti liberamente perché loro la tua casa editrice aveva modificato le tue traduzioni o perché tu avevi dovuto mantenerti per così dire? ma io devo dire non è neanche che avessi questa esigenza di esprimere liberamente perché in realtà non pensavo assolutamente di mettere per iscritto queste cose e di divulgarle cioè era una conoscenza mia come altri studi che porto avanti per conto mio senza sentire il bisogno di quindi le traduzioni che tu presentavi alla casa editrice erano già addolcite come posso dire? no allora io presentavo le traduzioni poi come si fa in tutte le case editrici ciò che viene fatto da un autore passa al vaglio del comitato di redazione il quale poi pubblica liberamente perché così è la regola editoriale e quindi poi loro pubblicavano ciò che era passato al loro vaglio e quindi con le necessarie variazioni eccetera quindi insomma questo mio amico mi ha detto senti perché c'è uno degli editori per i quali io lavoro che vuol mettere in piedi una collana per il libero pensiero e quasi quasi ti presenterei io ho detto vabbè presente allora mi ha presentato questo editore mi ha detto appunto abbiamo parlato e l'editore a un certo punto mi ha detto senta ha voglia, ha piacere di mettere per iscritto queste cose io le pubblico ecco è nato tutto così interessante in modo assolutamente casuale poi c'è chi dice che il caso non esiste ma questa sarebbe altra discussione diciamo è nato così cioè nel senso che uno che fa l'editor ha detto senti se vuoi ti presento a questo editore che vuol mettere in piedi benissimo ha detto vabbè andiamo a incontrarlo vediamo e questa cosa mi ha stravolto la vita poi di qui vengono fuori tutte le interpretazioni dietro logic però tanto ognuno è libero di pensare ciò che vuole io non posso far altro che raccontare le cose come sono avvenute va bene chi ci vuol credere non ci crede e chi non ci vuol credere non ci crede non è un problema mio va bene grazie Mauro la Bibbia è considerata una sacra scrittura da chi la considera tale perché sarebbe stata dettata o ispirata o trasmessa da Dio ora se quello che ho appena detto è sbagliato o i conti non tornano da qualche parte chi è in realtà l'autore della Bibbia e perché l'ha scritta la Bibbia con quale intenzione o motivazione è stata scritta intanto gli autori sono tanti e sono per lo più sconosciuti nel senso che la Bibbia è un insieme di racconti messi per iscritto da tanti autori nel corso dei secoli racconti che tra l'altro ciascuno di questi è stato anche riscritto è stato emendato, è stato tagliato, è stato implementato perché tutti quelli che nei secoli hanno avuto in mano la Bibbia e avevano il potere per farlo ovviamente ci hanno messo dell'oro quindi la Bibbia è intanto un insieme di libri che a un certo punto sono stati riuniti sono stati codificati e sono stati fissati cioè a un certo punto e questo è avvenuto per quanto riguarda diciamo le Bibbie che noi abbiamo in casa quindi insomma tutte le Bibbie del mondo occidentale è avvenuto tra il VI e il IX secolo d.C. da parte di questa scuola masoretica di Tiberiade che ha detto adesso basta adesso fissiamo la Bibbia una volta per tutte e quindi le Bibbie che noi abbiamo in casa derivano appunto da questo codice di Leningrado che è la Bibbia ufficialmente diciamo così accettato o diciamo il punto di riferimento per l'ebraismo e per il cristianesimo però se ho qualche minuto do due concetti interessanti perché poi la gente queste cose non le sa e quindi non ci pensa certo cioè la Bibbia è appunto un insieme di libri che nel corso di secoli qualcuno ha deciso di dividere tra libri credibili e libri non credibili cioè facciamo l'esempio la Bibbia cattolica quando dico Bibbia attenzione così almeno siamo chiari parliamo sempre di Antico Testamento quindi la Bibbia cattolica è fatta da 47 libri la Bibbia ebraica è fatta di 39 perché gli ebrai dicono che ci sono 8 libri che non sono credibili quindi se io nasco a Roma mi viene detto che devo credere come veri e ispirati da Dio 47 libri se io nasco a Gerusalemme mi viene detto che io devo credere come veri 39 libri se io nasco in Egito e appartengo alla comunità dei cristiani copti mi viene detto che ci sono dei libri ai quali devo credere che invece sono libri ai quali non devo credere se nasco a Roma o a Gerusalemme per esempio il libro di Enoco il libro dei Giubilei sono veri per i cristiani copti non sono veri per i cristiani romani e per gli ebrei se io nasco ad Atene mi viene detto che il punto di riferimento della mia Bibbia non è il codice eraico masoretico di Leningrado ma è la Bibbia greca dei 70 scritta nel terzo secolo avanti Cristo se io fossi nato in Italia nel secondo terzo secolo dopo Cristo mi sarebbe stata detta la stessa cosa cioè i padri della chiesa cristiana prendevano come fonte la Bibbia greca dei 70 questo fin più o meno al quarto secolo dopo Cristo di lì in avanti hanno abbandonato la Bibbia greca dei 70 e si sono avvicinati al canone ebraico quindi i libri nei quali io devo credere ciascuno di noi deve credere dipendono dal luogo geografico e dal periodo storico in cui ciascuno di noi nasce perché a seconda del luogo geografico e del periodo storico ci sono degli uomini che decidono o hanno deciso quali sono i libri veri e quali sono i libri falsi ma tra i libri veri così almeno faccio un quadro e la gente capisce ci sono migliaia di variazioni cioè tra i primi cinque libri ad esempio del codice masorefico cioè tra quelli considerati veri in una tradizione e quelli considerati anche veri in un'altra tradizione esattamente per esempio tra la Torah la Torah sono i primi cinque libri dell'Antico Testamento quelli che noi conosciamo come Pentateuco tra la Torah dei Masoreti e la Torah dei Samaritani quindi siamo sempre in terra di Israele ci sono duemila varianti duemila varianti significa parole tradotte diversamente? no 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 proprio scritte diversamente o parole che ci sono in una e non ci sono nell'altra c'è proprio variazioni ovviamente da variazioni più piccole a variazioni più importanti e i Samaritani dicono noi siamo i custodi della legge i Masoreti dicono noi siamo i custodi della tradizione duemila varianti tra la Bibbia greca e la Bibbia masoretica ci sono mille varianti di nuovo allora se io nasco ad Atene mi si dice che quella vera è quella greca se io nasco a Gerusalemme o Roma mi si dice che quella vera è quella masoretica quindi ognuno scelga quale vuole perché tanto non c'è persona al mondo che possa dire qual è quella vera perché degli uomini stando seduti a tavolino stabiliscono per conto degli altri quali sono i libri nei quali bisogna credere e quali sono i libri nei quali non bisogna credere ma all'interno di questo ci sarebbe ancora dell'altro ma ho già parlato troppo troppo dico come lunghezza di risposta grazie assolutamente andiamo avanti veniamo al punto cruciale della Bibbia cioè Dio al catechismo ci insegnano che il protagonista della Bibbia è Dio o Yahweh che dir si voglia che anzitutto è uno altrimenti diciamo non saremmo più diversi dai pagani adoratori di molti dei e così via quindi un solo Dio onnipotente onnisciente dotato di poteri enormi immortale ecco questi sono tre almeno tre dei prerequisiti delle qualità onnipotente onnisciente immortale è uno ora questo tipo di budget o descrizione che noi abbiamo imparato al catechismo è confermato o in che modo esce diverso dalle tue tradizioni dalle tue traduzioni della Bibbia dunque questa è una delle poche certezze che ho la Bibbia non parla di Dio cioè non parla in assoluto di Dio in assoluto di Dio cioè del Dio trascendente spirituale creatore dei cieli della terra io ho fatto un libro per gli Stati Uniti e sulla base di questo libro negli Stati Uniti non è ancora pubblicato ma siccome l'hanno già letto degli studiosi americani i quali l'ho mandato l'hanno già letto dei conduttori di reti televisivi e radiofoniche negli Stati Uniti si sono già scatenati i forum più importanti perché mi sa che fra poco in Italia non ti vediamo più se conosco bene il mercato americano non lo so non lo so fatto sta che sono letteralmente io ho già partecipato in diretta a delle trasmissioni radiofoniche coast to coast cioè in diretta da New York a Los Angeles e quel libro si intitola There is no good in the Bible non c'è Dio un'affermazione fortissima questo è il titolo perché non c'è e chiunque studi la Bibbia senza preconcetti teologici lo sa Yahweh è uno degli Elohim cioè uno di quegli individui di cui parla la Bibbia e che sono tanti io nelle conferenze che ho iniziato adesso cioè il nuovo ciclo insomma che ho iniziato adesso da settembre io documento questa cosa tra l'altro e lo faccio in pubblico leggendo la Bibbia che abbiamo in casa non c'è neppure bisogno di traduzioni particolari se ci si libera dai preconcetti fideistici fideistici si capisce chiaramente che Yahweh è uno degli Elohim e che Yahweh sia uno di questi Elohim lo sa bene anche il Vaticano lo sanno bene un sacco di ebrei che sono in totale pieno accordo con me poi ci sono gli ebrei fideisti che invece mi attaccano perché ovviamente non possono accettare che io metta in discussione il loro Dio quello che li ha scelti ma pazienza mi spiace per loro ma non so cosa farci lo sanno bene anche a Roma tant'è che una direttiva data ai vescovi e ai sacerdoti che è pubblica quindi non sto svelando nulla non è che abbia fatto ricerche dietrologiche è pubblica dice di non parlare più di Yahweh perché il nome Yahweh va dimenticato perché loro sanno bene che se la gente capisce chi è Yahweh cioè quel personaggio su cui la teologia ha inventato Dio beh allora la gente capisce insomma che cosa c'è veramente dentro la Bibbia allora Yahweh non deve essere più come nome dimenticato cioè citato deve essere dimenticato quindi allora sono tanti Yahweh è uno di loro Yahweh è un individuo in carne ed ossa tra l'altro come dire leggendo attentamente la Bibbia per fortuna per noi non è Dio perché essere nelle mani di un fra virgolette Dio così sarebbe un dramma colossale colossale e gli Elohim muoiono lo dice chiaramente la Bibbia muoiono come gli Adam questi due termini Elohim che è un termine plurale e chi vuole pensare che Elohim siccome viene sempre tradotto con Dio chi vuole pensare che Elohim in realtà indichi il Dio unico allora arriva a dire no ma non è plurale è una particolare forma di singolare va bene non mi interessa neppure entrare in queste discussioni filologiche la Bibbia parla chiaramente di Elohim come di una pluralità di individui e dice appunto che sono tanti Yahweh è uno di loro Yahweh è geloso del fatto che il suo popolo possa rivolgersi agli altri Elohim geloso al punto che dice se vi rivolgete agli altri io vi ammazzo e c'è una studiosa ebrea che in un suo libro dove analizza tutta una serie di cose ha fatto il conto e dice che Yahweh di soli suoi seguaci seguaci non nemici seguaci che non abbedivano ai suoi ordini ne ha uccisi 40.000 è vero basta fare il conto nella Bibbia quindi ha uccisi perché non obbedivano ai suoi ordini per questo dico meno male che non è Dio perché saremmo molto malmessi cioè praticamente è niente di più lontano dalla visione del Nuovo Testamento o Vangelo che dir si voglia sono due mondi completamente diversi quindi il Dio di amore da una parte e dall'altra parte invece nell'Antico Testamento abbiamo un Dio l'altra parte un colonizzatore che ha cercato di costruirsi un popolo per cercare di andare a conquistarsi con il sangue un pezzo di terra questo è Yahweh della Bibbia un colonizzatore uno all'interno di un popolo di colorizzatori esattamente quindi questi chi sono questi Elohim venivano dallo spazio erano alieni avevano fattezze umane avevano le squame al posto della pelle erano mostruosi cosa erano questi Elohim ne parliamo va bene nel nuovo libro che esce tra 15 giorni e che si intitola non c'è creazione nella Bibbia cioè la Bibbia non parla di creazione neppure nel primo versetto della Genesi sapete quello in cui si dice in principio Dio creò i cieli e la terra bene quel versetto lì non vuol dire questo e lo documento in due lunghi capitoli in questo nuovo libro che sta per uscire bene in quel libro io pubblico una tavoletta sumero-accadica tradotta non dai traduttori alternativi cioè quelli non riconosciuti da nessuno ma tradotta dai traduttori accademici più famosi al mondo dove si dice che quelli che nella cultura sumero-accadica sono conosciuti come gli Anunna o Anunnaki provengono da una dimora celeste una dimora celeste che era priva di vegetazione e dice che questi stavano lì quando ancora non erano arrivati sulla terra quindi abbiamo una tavoletta sumero-accadica tradotta dagli accademici i più importanti al mondo tra l'altro sono quattro che nel giro di quarant'anni l'hanno tradotta indipendentemente l'uno dall'altro e tutti dando lo stesso significato quindi ci si dice che questi arrivano da un altro pianeta non chiedetemi quale sia l'altro pianeta perché non lo so non c'è scritto e quindi non me ne occupo neanche perché io mi occupo della Bibbia e di questo la Bibbia non fa menzione di questa provenienza nulla nulla c'è soltanto e questo l'ho scritto nel libro il dio alieno della Bibbia c'è soltanto un possibile piccolo aggancio quando la Bibbia poi dopo ricordami che devo parlarti del possibile aspetto fisico degli Elohim perché mi avevi chiesto questo allora quando la Bibbia parla dei Nefilim cioè i cosiddetti giganti e tra l'altro in due passi dice pure che questi giganti avevano sei dita per ogni arto ma questo lo trovate anche nelle traduzioni delle Bibbie che avete in casa quindi non c'è bisogno di traduzioni particolari Nefilim è il termine che viene tradotto con giganti ecco dobbiamo sapere che Nefilim ha una desinenza plurale il nome aramaico singolare Nefilà indica una cosa sola una cosa sola quindi lì non c'è possibilità di interpretazione indica costellazione rione quindi se Nefilim lo possiamo considerare una desinenza del plurale e pensiamo a questa definizione dell'aramaico il singolare cioè Nefilà significa costellazione di Orione allora ciò che ci viene in mente ma ripeto è tutto da dimostrare tutto da approfondire è che Nefilim potesse indicare una sorta di orioniti orioniani non lo so certo è che questo collegamento diciamo che è quantomeno curioso poi è tutto da studiare tutto da approfondire ma insomma il fatto che Nefilà il singolare significhi costellazione di Orione beh insomma può dar adito quantomeno a qualche sviluppo a qualche pensiero interessante prima di arrivare all'aspetto fisico che ci interessa a tutti quanti che altri aneddoti o passaggi della Bibbia potrebbero confermarci questa visione che questo popolo erano lì sparsi per il pianeta Terra probabilmente a colonizzare a colonizzarla o che altri che altri indizi abbiamo per confermare questo allora Deuteronomio 32,8 lo potete leggere nelle Bibbie che avete in casa si dice che quando Elyon Elyon significa in ebraico quello che sta sopra quindi il comandante definiva i confini delle nazioni e le distribuiva dice fece in sostanza questa assegnazione sulla base del numero e nelle Bibbie che abbiamo in casa c'è una delle tante falsità introdotte dai masoreti che dovevano ovviamente glorificare il popolo ebraico sulla base del numero dei figli di Israele ma questa è una falsità perché tutti i codici più antichi compreso il codice greco dicono sulla base del numero dei figli degli Elohim cioè il capo degli Elohim ha contato gli Elohim e ha diviso la terra in diciamo così governatorati sulla base del numero degli Elohim e lì in quel passo si dice che a Yahweh questo è curioso toccò in eredità cioè in assegnazione quel popolo quindi lì ci viene detto con assoluta chiarezza che il capo degli Elohim ripeto Deuteronomio 32,8 e seguenti il capo degli Elohim ha contato gli Elohim ha definito i confini delle nazioni le ha assegnate e questa assegnazione a Yahweh che dunque era uno degli Elohim che eseguivano gli ordini di un capo tra l'altro quindi non era neanche lui il capo a lui in assegnazione toccò quel popolo e dice pure la Bibbia che lo trovò piangente e disperato nel deserto cioè a lui è stata data un'assegnazione infima pensiamo a quelli dei suoi colleghi che hanno avuto in assegnazione l'Egitto ad esempio o quelli che hanno avuto in assegnazione quella che sarebbe poi diventata la civiltà siro-babilonese o a quelli che hanno avuto in assegnazione le grandi civiltà orientali tipo quella dell'Indo-Parashwati eccetera perché tutta la terra è stata assegnata bene Yahweh ha avuto questo e mi si dice dal mondo giudaico-romano mi si dice che probabilmente Yahweh era un Elohim giovane doveva farsi le ossa e doveva dimostrare di che cosa era capace questo mi arriva da persone interne al mondo giudaico-romano cioè che fanno parte di quel mondo giudaico aperto cioè non viziato dal pensiero teologico dove si dice Yahweh è il Dio universale e Yahweh è quello che ha scelto noi no ci sono gli ebrei che sanno bene chi era Yahweh un'altra espressione che ti ho sentito ripetere spesso guardando un po' i tuoi video le tue conferenze quando dici questi accampamenti erano riuniti in accampamenti qualcosa del genere c'è un bellissimo passo che non viene mai commentato da nessuno che è in Genesi 32 scusate sto andando a memoria ma siccome sto correggendo l'ultimo libro che deve uscire ho in mente decine di citazioni di quindi potrei anche sbagliare ovviamente allora si dice che quando dunque Giacobbe Giacobbe è uno dei tre patriarchi abbiamo tutti in mente almeno Abramo Isacco Giacobbe quindi i tre patriarchi da cui teoricamente sarebbe derivato dico teoricamente perché i rabbini americani scrivono apertamente che non sanno neppure se Abramo sia veramente esistito chiusa parenti allora noi facciamo finta che la Bibbia ci dica il vero allora questi quando dovevano sposarsi tornavano a cercare moglie all'interno della famiglia nel loro paese di origine che era la Mesopotamia allora Giacobbe fa lo stesso fa come ha fatto suo padre Abramo cioè suo nonno Abramo suo padre Isacco va a cercare moglie quando ritorna quindi con le mogli perché poi è andato a cercarne una ma in realtà è tornato con più di una con le mogli la sua tribù i servi gli animali gli elementi eccetera arriva a un certo punto e si dice che due Malakim gli vengono incontro ora Malakim è il termine ebraico che viene che significa messaggeri porta ordini in sostanza o anche guardiani o esecutori di ordini per conto degli Elohim ed è il termine che viene normalmente tradotto con angeli ma come scrivono e questo me lo scrivono anche gli ebrei che mi attaccano dove scrivono analizzando i miei libri che il fatto che nella Bibbia i Malakim non siano esseri spirituali gli ebrei lo sanno da sempre quindi l'esistenza dell'entità spirituale angelica nella Bibbia è una delle tante invenzioni teologiche perché non ci sono proprio non c'è nessun dubbio non ci sono allora gli vengono incontro due di questi messaggeri lui vede questi due questi due non hanno neanche bisogno di parlargli lui capisce e dice ma questo è un accampamento degli Elohim e se ne va e chiama quel luogo Mahanaim che vuol dire due accampamenti quindi vuol dire che lui lì ha visto due accampamenti e la cosa è spiegabile in due modi diversi uno quando ci sono siccome questi Elohim avevano una gerarchia militare quando ci sono degli accampamenti stanziali dei militari c'è l'accampamento della truppa che è fatto di tende di un certo tipo e c'è l'accampamento degli ufficiali e dei comandanti che è fatto di un altro tipo quindi chi lo osserva dall'esterno vede due tipi di accampamenti e quindi può benissimo definirli due attenzione siccome i Malachim sono appunto gli esecutori degli ordini degli Elohim i Malachim sono la truppa rispetto agli Elohim che erano gli ufficiali ma c'è un commento di Rashid Troai che è uno forse in tutti i tempi della Bibbia siamo intorno all'anno 1000 il quale dice che lì in quel passo ci si riferisce a due schiere cioè c'era una piccola schiera che seguiva Giacobbe nella sua marcia di ritorno verso diciamo dalla Mesopotamia verso il territorio di Canaan Giacobbe arriva su un posto dove c'era il confine un confine e al di là del confine c'era un'altra schiera di questi qui quindi Rashid Troai dice che quando Giacobbe definisce Mahanaim quel luogo si riferisce a due accampamenti appartenenti a due schiere una che era quella che tutelava una parte del confine l'altra che era quella che tutelava l'altra parte del confine interessante e quindi tornando a una domanda che ti facevo prima cioè gli autori della Bibbia non intendevano compilare un testo di religione raccontavano quello che succedeva nel modo più assoluto guarda ti leggo una frase perché questa ce l'ho qui stampata sulla mia scrivania assieme ad altre di questi ebrei ebraisti filologi che cercano di demolire il mio lavoro ma che poi di fatto sono costretti ad accettare a riconoscere tutta una serie di cose scrivono su varie cose Mauro Biglino ha ragione la Bibbia come egli afferma non è un libro di religione mai mai gli autori biblici originali hanno avuto in mente un libro di religione loro scrivevano delle cronache per come gli venivano raccontate dopo è stato trasformato in un libro di religione veniamo all'aspetto fisico degli Elohim sì allora c'è un bellissimo racconto che è il racconto di quando Abramo incontra tre di questi qui cioè Abramo si trova sotto la quercia di Mamre insomma con le sue tende con la sua tribù in assoluta tranquillità e dice dice la Bibbia che gli vengono incontro siamo per chi lo volesse controllare siamo in Genesi capitolo 18 allora gli vengono incontro tre che la Bibbia definisce Anashim Anashim è il plurale di Ish Ish significa individuo maschile quindi io sono un Ish tu sei un Ish noi due assieme siamo due Anashim ok è chiaro benissimo siamo due Anashim bene allora gli vengono incontro tre Anashim lui li riconosce immediatamente capisce che appartengono a quelli là li invita e dice siccome questi arrivano camminando attenzione li invita e dice allora entrate da me lavatevi sempre erbi al plurale lavatevi riposatevi ristoratevi vi faccio preparare del cibo così potete mangiare e bere poi potete continuare l'altro viaggio bene questi tre si fermano mangiano bevono si lavano si riposano poi due di questi partono e vanno verso la città di Sodoma e adesso vi racconto cosa vanno a fare uno rimane lì e dalla Bibbia scopriamo che quello che rimane lì è Yahweh ok quindi tre Anashim due se ne vanno e adesso andiamo a vedere cosa vanno a fare quello che rimane è Yahweh e Yahweh racconta ad Abramo che cosa sta per succedere alla città di Sodoma dove viveva il nipote di Abramo Lot i due i due che partono e partono camminando vanno verso Sodoma vengono da quel momento in avanti chiamati Malachim cioè questi due Anashim cioè questi due individui maschi nel momento in cui vanno ad eseguire un compito diventano dei Malachim cioè diventano dei portaordini per conto di Yahweh quindi abbiamo la chiara descrizione del fatto che sono tre individui maschili simili a noi qui più avanti se vuoi raccontiamo in che cosa potevano essere diversi allora questi due vanno a Sodoma il nipote di Abramo era seduto come succedeva con gli altri anziani alla porta della città li vede arrivare come li vede arrivare capisce subito che appartengono a quelle altre schiere cioè non sono dei normali Adam Adam è il termine ebraico col quale si identifica la specie umana che era diversa dagli Elohim che erano un'altra specie anche se come dice la Bibbia poi se vuoi ne parliamo sessualmente compatibili comunque allora questi due vanno Lot li vede li invita ad entrare a casa sua questi due raccontano a Lot che Lot deve immediatamente abbandonare Sodoma perché gli Elohim hanno deciso di distruggerla raderla al suolo cosa che avviene poi in effetti il giorno successivo allora gli uomini di Sodoma cercano hanno capito qual era lo scopo di questa missione cercano di catturare questi due questi due malachim cioè quindi questi due individui maschili che vengono chiamati malachim termine col quale si intende teologicamente gli angeli cosa assolutamente assurda cercano di catturarli questi riescono a divincolarsi si chiudono si barricano dentro quindi pensate agli angeli che si barricano dentro la casa di Lot è ridicolo solo pensarlo ovviamente si barricano dentro la casa poi con un sistema che io definisco tecnologico perché la Bibbia dice in sostanza produssero una forte luce un abbagliamento per cui quelli che cercano di catturarli sono per un attimo accecati da questa forte luce loro approfittano di questo attimo di accecamento e scappano questi sarebbero gli angeli secondo la teologia bene questi se ne vanno Lot parte anche lui perché ha capito che non c'è più nulla da fare e il giorno dopo la città di Sodoma con altre quattro città Sodoma Gomorra più altre tre vengono rase al suolo con quella che può essere considerata una sorta di mini esplosione atomica e quindi vengono completamente azzerati quindi allora questi Elohim sono individui assolutamente simili a noi cioè due braccia due gambe mangiano porcano sudano puzzano si devono lavare eccetera quindi compreso Yahweh si devono lavare devono mangiare devono dormire anche perché Lot invita questi due a dormire da lui quindi gli angeli devono dormire come tutti gli uomini esattamente in che cosa potevano essere allora dicevo prima che erano anche sessualmente compatibili in Genesi capitolo 6 si dice chiaramente e gli autori biblici lo raccontavano in assoluta tranquillità perché per loro che non avevano finalità religiose non era valutamente un problema che gli Elohim si uniscono con le femmine degli Adam perché hanno visto che le femmine degli Adam erano otto volte cioè erano belle erano appetibili si uniscono e ne nascono dei figli questi figli la Bibbia li definisce i gibborim che vuol dire uomini famosi uomini di fama uomini di potere e non sarebbero anche i famosi giganti? no la Bibbia dice sempre in quel passo che in quel tempo cioè nel periodo nel tempo in cui gli Elohim si univano con le femmine Adam sulla terra c'erano i nefilim cioè sulla terra c'erano i giganti che però non sono i figli di queste unioni ma c'erano indipendentemente da queste unioni perché i figli di queste unioni sono i gibborim che essendo dei sangue misto ovviamente erano considerati appunto uomini di fama uomini di peso uomini di potere ma la Bibbia dice chiaramente che mentre avvenivano queste unioni sulla terra c'erano i nefilim non che ne fossero il prodotto e i nefilim quelli di cui dicevo prima questi giganti con sei dita il cui singolare appunto in aramaico significa costellazione quindi erano probabilmente una terza stirpe distinta e separata probabilmente era un'altra razza esattamente ma il rapporto fra noi esseri umani torniamo alla creazione il rapporto fra noi esseri umani queste Elohim ci hanno creato non ci hanno creato ci hanno trovato qui sul pianeta terra e guarda caso si obbediavamo a loro com'è il rapporto fra noi e loro allora io non userei il termine ci hanno creato perché diciamo nell'ambito culturale in cui ci troviamo cioè in Italia creazione ci rimanda immediatamente al concetto di creazione dal nulla hanno schioccato le dita no la Bibbia ci dice che ci hanno fatti a loro somiglianza questo lo spiego in tutti e lo spiego molto bene anche nel libro Il Dio Lieno della Bibbia ci hanno fatti usando quello che nella Bibbia si chiama lo zelem che significa per i dizionari curati dai rabbini significa quel quid di materiale che contiene l'immagine e che essendo stato tagliato essendo derivante dal verbo zalam significa essere tagliato fuori cioè la Bibbia dice che noi siamo stati fatti be zelem cioè con lo zelem degli Elohim cioè con quel qualcosa di materiale che contiene l'immagine degli Elohim e che è stato tagliato fuori ora se per un attimo noi ci dimentichiamo che stiamo parlando della Bibbia e pensiamo soltanto a questa definizione qualcosa di materiale che contiene l'immagine e che è stato tagliato fuori beh a tutti noi viene in mente il DNA leggo una frase che scrivono quegli ebrei che mi attaccano te la leggo così almeno non ci sbagliamo che la Bibbia parli di ingegneria genetica è noto da sempre agli ebrei attraverso aspettate questi sono quelli che ti attaccano questi sono quelli che mi attaccano ti leggo di più questi che sono quelli che mi attaccano dicono il termine ebraico malach che è quello di malachim di cui parlavamo prima tradotto in italiano con angelo ha come soggetto gli esseri umani comuni sono comuni cittadini o anche profeti o addirittura senti cosa dicono loro microorganismi tutte cose materiale che sono definite malachim cioè ovvero coloro che svolgono un compito come dicevo prima fanno da portaordini fanno da guardiani fanno da esecutori cioè loro mi attaccano perché io presento questa figura di Yahweh che per loro è il loro Dio che è il creatore dei cieli e della terra ma su tutto il resto mi danno ragione su tutto su tutto la Bibbia è noto da sempre che parla di ingegneria genetica cioè loro lo sanno da sempre loro sanno da sempre che i malachim non sono angeli io nel libro alieno della Bibbia ho dedicato un capitolo intero a dimostrare che Satana non esiste nell'Antico Testamento nel senso che non se ne parla proprio sì nel senso che non esiste il Satana cioè c'è il termine Satana ma non è l'individuo cioè lo spirito malefico capo dei demoni proprio è Satana è un aggettivo che significa colui che in quel momento fa da pubblico ministero contro un altro e loro scrivono quelli che mi attaccano molto duramente il capitolo sul Satana Mauro Biglino lo ha egregiamente trattato e su ciò gli facciamo i nostri migliori complimenti cioè loro lo sanno da sempre che Satana non esiste ed è un'invenzione teologica così come io sono convinto che entro un anno e quindi visto che siamo in ambito biblico faccio una piccola profezia che loro scriveranno che loro lo sanno da sempre che la Bibbia non parla di creazione neppure nel primo versetto della Genesi però finché non c'è uno che ha l'incoscienza di cominciare a scrivere queste cose nei libri perché non lo dicono apertamente che lo sanno da sempre perché non dicono apertamente che qualcuno ci sta raccontando favole da un sacco di tempo perché taccio e invece adesso lo scrivono per reagire contro di me perché io la risposta ce l'ho ma non rispondo io sarebbe bene rispondessero loro comunque va bene così questa idea dell'intervento genetico allora è nota da tantissimo tempo è uno degli aspetti fondamentali dell'Antico Testamento e quindi sembrerebbe che loro abbiano utilizzato il proprio DNA per manipolare probabilmente delle forme di vita preesistenti io parlo dei due DNA nei libri e anche qui ti leggo di nuovo che cosa scrivono loro perché guarda questo è interessantissimo interessantissimo allora io scrivo i due racconti della creazione dell'uomo ci parlano dei due DNA con cui siamo stati fatti loro scrivono è vero che vi siano due DNA la letteratura biblica lo conosce da millenni capisci? capisci? però io questa cosa l'ho scritta un anno e mezzo fa nel Dio Lieno della Bibbia è un anno e mezzo che io vengo insultato deriso attaccato perché mi si dice che solo un deficiente può scrivere cose del genere dopo un anno e mezzo due di attacchi derisioni insomma di tutto quello che si scrive di me in rete una parte l'hai citata anche tu prima mi viene detto che loro che gli ebrei lo sanno da sempre che la Bibbia parla dei due DNA e quali sarebbero questi due DNA? adesso lo spiego io questa cosa l'ho rilevata traducendo l'ebraico incredibile che la Bibbia parli di due DNA l'ho rilevata traducendo l'ebraico i due DNA sono il DNA degli ominidi che questi Elohim hanno trovato su questo pianeta e quella piccola parte di DNA loro che loro hanno introdotto negli ominidi per far fare questo salto evolutivo io nel libro di cui ti dicevo prima che ho scritto per gli Stati Uniti There is no God in the Bible io lì intanto dedico un capitolo intero alle attività del Vaticano sulla studio della vita extraterrestre e questo capitolo lo manderò ad un certo gesuita perché cito lui che è quello che controlla tutta questa conoscenza vaticana su questo mondo che sembra siano estremamente all'avanguardia nel mondo sì sì sanno tutto quindi io lo manderò a lui chiedendogli se secondo lui ho scritto delle stupidaggini visto che l'ho uscito e poi questo libro io dedico un capitolo intero a entrare nelle diattribe ferocissime noi in Italia non ne abbiamo neanche la più palida idea che invece negli Stati Uniti esistono tra creazionisti e darwinisti e quindi intervengo presentando una ipotesi che io chiamo che paradossalmente le abbraccia entrambe esattamente che io chiamo intervention theory che spiega come mai manca l'anello mancante che non troveranno mai e che spiega come mai dai nostri cugini primati a noi c'è un salto dalle 24 alle 23 coppie di cromosomi che nessun genetista è in grado di spiegare ed è per questo che lì nei forum americani e nelle trasmissioni si stanno scatenando su questo lavoro incredibile questo uno dei pezzi forti della Bibbia ci ha già accennato a questa spartizione del pianeta per zone di influenza fra i vari Elohim ma uno dei pezzi forti comunque questa storia complicatissima della relazione fra Dio o Yahweh e il suo popolo eletto cosiddetto allora a parte il fatto che gli ebrei diventano il popolo eletto perché vengono assegnati a Yahweh ma al di là di questo sai molti di noi tendono a dimenticare completamente la cronologia della Bibbia che hanno studiato da bambini magari puoi farci una specie di riepilogo sia pur breve cronologico come dire secondo quali tappe si manifesta il percorso del rapporto tra Yahweh e i principali patriarchi del popolo ebraico e in generale la storia del popolo ebraico ok allora la premessa è sempre facciamo finta che ciò che c'è scritto nella Bibbia sia vero ok con questa premessa allora Abramo viene collocato diciamo tra il 1900 e il 1700 avanti Cristo Abramo viveva in Mesopotamia con ogni probabilità era quindi un sumero dice la Bibbia nel libro di Gesùè che quando Abramo era in Mesopotamia seguiva degli Elohim che non erano Yahweh lo dice la Bibbia lo dice la Bibbia che tutti abbiamo in casa quindi seguiva degli Elohim che non erano Yahweh poi arriva Yahweh lo chiama e gli dice vieni con me che ti porto a in sostanza conquistare un territorio che poi assegnerò a te e alla tua discendenza e lo porta in terra di Canaan quando è in terra da quel momento Abramo cessa di seguire gli Elohim Mesopotamici e si mette a seguire Yahweh poi quando arriva e vanno in terra di Canaan quando arriva una grande carestia in terra di Canaan Abramo è costretto a spostarsi in Egitto per trovare cibo quando si sposta in Egitto Abramo lo dice la Bibbia cessa di seguire Yahweh e si mette a seguire gli Elohim che governavano in Egitto perché Yahweh in Egitto non ci poteva mettere naso perché non era territorio suo quindi abbiamo Abramo che segue degli Elohim in Mesopotamia poi Abramo che sceglie di dire di sì a questa chiamata di andare a conquistare un territorio segue Yahweh quando si sposta in Egitto cessa di seguire Yahweh perché deve seguire gli Elohim che comandano in territorio egiziano dopodiché c'è tutto il periodo Abramo Isacco Giacobbe quindi poi i dodici figli di Giacobbe che anche loro si devono rispostare in Egitto di nuovo per via della carestia passano alcuni secoli quindi diciamo siamo partiti con Abramo con una collocazione storica tra il 1009 e il 1007 avanti Cristo arriviamo al momento di Mosè con Mosè viene collocato perché ovviamente non si sa non si ha nessuna certezza viene collocato tra il 1400 e il 1200 più o meno avanti Cristo scusate Mosè viene collocato tra il 1400 e il 1200 avanti Cristo lì ricompare questo Yahweh che dà incarico a Mosè in sostanza di portare fuori questa gente dall'Egitto per tentare di ricostruirsi un popolo tant'è che Mosè deve tenere nel deserto diciamo così in questo territorio per molti decenni questo popolo perché era un popolo che non esisteva più lo dicono i rabbini stessi dicono che il popolo ebraico è in realtà un lungo prodotto di una fusione di elementi semiti non semiti nomadi seminomani abitanti di Canaan che tutti assieme in un lunghissimo periodo hanno costruito l'identità israelitica quindi in realtà non ha portato fuori dall'Egitto gli ebrei ha portato fuori dall'Egitto un insieme di genti che poi lui ha fatto diventare popolo quindi li ha tenuti lì e come dice una studiosa ebrea Mosè ha avuto l'incarico di istituire in questo territorio un campo di addestramento paramilitare tra l'altro come dire governato con regole poliziesche ferocissime perché appunto uccidevano tutti i dissidenti tanto per capirci immediatamente senza nessuna pietà perché non ci si poteva permettere di avere dissidenti all'interno e quindi siamo appunto tra il 1400 e diciamo più o meno il 1300 1200 avanti Cristo dopodiché c'è il periodo lunghissimo dell'insediamento nella terra di Canaan quindi quando sono finalmente pronti per tentare di andarsi a conquistare pian pianino cominciano la penetrazione poi c'è il cosiddetto periodo dove loro sono governati da quelli che si chiamano i giudici e poi finalmente arriviamo intorno all'anno 1000 con i regni di Davide e Salomone e poi comincia diciamo la storia più conosciuta quella della divisione tra il regno di Giuda e il regno di Israele quindi questa è molto sinteticamente la cronistoria interessante e i rapporti durante tutta questa storia fra Yahweh o i governanti Elohim e il popolo che ok nella storia che stiamo esaminando quello del popolo eletto del popolo ebraico ma diciamo per che cosa li usavano questi li usavano li governavano a quale scopo per farsi servire per farli lavorare allora e poi ci sono anche dei messaggi profondamente anti-umani che noi possiamo decodificare nell'Antico Testamento tipo la richiesta di castrarsi la circoncisione i sacrifici sacrifici animali sacrifici umani addirittura cioè che tipo di rapporto che cosa richiede al popolo che governa questo governante Elohim allora Yahweh era appunto come ho detto un normalissimo colonizzatore ovviamente potentissimo rispetto al popolo su cui lui governava e quindi il rapporto era di un solo tipo lui dava gli ordini gli altri dovevano eseguire pena la morte che veniva combinata con grande con grande facilità quindi il popolo doveva seguire e servire lui tra l'altro all'interno seguire e servire lui e soprattutto appunto doveva ovviamente eseguire gli ordini che venivano impartiti tramite Mosè che era il comandante in campo per conto di Yahweh e Mosè doveva appunto costruire questo piccolo o grande esercito col quale tentare di andare a conquistarsi un pezzo di terra minimamente vivibile la cosiddetta terra promessa o terra di Canaan all'interno di questa di questa gente poi Yahweh si è scelto un gruppo particolare una famiglia come quella che noi chiamiamo la famiglia dei sacerdoti ma noi abbiamo in testa l'idea del sacerdozio che è quello nostro cioè la persona che riceve una cosiddetta vocazione e che si deve dedicare alle anime per portarle alle anime dei fedeli per portarle a Dio ecco i Kohanim cioè i cosiddetti sacerdoti di quel popolo nulla hanno a che vedere con questo erano probabilmente servitori a tempo pieno servitori a tempo pieno al suo diretto servizio tra l'altro questi come è scritto chiaramente nella Bibbia lui li voleva senza difetti fisici cioè chi avesse avuto un difetto fisico non doveva e non poteva occuparsi di lui anche se apparteneva a quella famiglia perché questi avevano questi Elohim avevano ovviamente delle esigenze particolari pensiamo che in Egitto questo diceva un egittologa dei sacerdoti che dovevano occuparsi dell'allevamento degli animali per conto dei colleghi Elohim di Yahweh che in Egitto erano i cosiddetti Shamshuor cioè i compagni di Horus bene questi sacerdoti che dovevano occuparsi di allevare gli animali di cui poi si nutrivano questi qui non solo non dovevano avere difetti fisici ma dovevano essere belli esteticamente se non si erano belli non ci si poteva occupare dell'allevamento dei loro animali quindi avevano insomma delle esigenze molto particolari diciamo che Yahweh si accontentava del fatto che non avessero difetti fisici non li cercava belli ecco almeno questo almeno questo glielo dobbiamo riconoscere e quindi questi qui si dovevano occupare di lui si dovevano occupare del suo cibo e nel suo cibo c'erano anche i modi che lui indicava chiaramente con degli ordini precisi in cui preparargli certe parti dei corpi cioè per esempio certe parti di grasso che lui voleva che gli venissero bruciate perché lui doveva annusarne il fumo questo lo dice chiaramente la Bibbia e la Bibbia dice chiaramente che questo fumo era per lui Nichoach ora Nichoach è un altro di quei termini appunto che chi ha in mente l'idea del Dio trascendente ovviamente non vuole assolutamente accettare quindi mi viene contestato Nichoach vuol dire tranquillizzante calmante lenitivo e io adesso nelle conferenze mi faccio anche vedere con la fotocopia di uno dei dizionari più importanti di ebraico biblico stampati negli Stati Uniti e Nichoach ha solo quel significato lì quindi non è neppure che tra tanti significati uno si vada a cercare quello ha solo quel significato lì cioè quando Yahweh usava il fumo di quel grasso preparato nel modo ordinato da lui lui si calmava e questo lo voleva assolutamente e chi si fosse appropriato di quelle parti di grasso per farne un uso personale doveva essere messo a morte e tra l'altro in due passi della Bibbia sia in Esodo che in Levitico anzi in tre Esodo Levitico e in Ezechiele si dice chiaramente che c'è stato un lungo periodo nel quale facevano i sacrifici umani cioè in particolare gli dovevano sacrificare i primogeniti quando avevano otto giorni questo valeva sia per gli animali che per gli uomini tu non ti sei mai occupato nelle tue studi nei tuoi scritti o perlomeno in quelli pubblicati di Nuovo Testamento ti sei sempre concentrato le tue competenze sull'Antico Testamento ci sono molti scritti antichi nella cristianità originaria chiamiamolo così o la cristianità gnostica l'ognosi l'ognosticismo che hanno uno stampo fortemente polemico per non dire contro l'Antico Testamento cioè affermano che il mondo sarebbe sotto l'influenza che se è sotto l'influenza di un dio è semmai sotto l'influenza di un dio malvagio che presiede la materia un dio dell'oscurità un dio delle tenebre e così via e che il vero principio del bene o della luce non si trova in questa dimensione materiale ma si trova nella dimensione spirituale da cui gli esseri vengono prima di nascere e a cui ritornano dopo la loro morte al contrario se noi andiamo a fare alla fine un esame di quella che è stata la funzione storica della chiesa di Roma cioè della cristianità come noi la conosciamo oggi sembra che la sua funzione storica sia stata quella di prendere questo fenomeno nascente della cristianità cioè del Nuovo Testamento e di riportarlo all'interno dell'Antico Testamento tale per cui oggi abbiamo questa situazione un po' strana e inspiegabile per cui tu senti il sacerdote in chiesa che legge brani dell'Antico Testamento che filosoficamente parla di un dio pluriumicida che va in spedizione a conquistare terre facendo 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 stragi di nemici e così via che non si concilia molto bene con il messaggio che abbiamo del Nuovo Testamento non so se tu hai delle riflessioni a questo riguardo sì sì ne ho di molto chiare allora io non mi occupo pubblicamente del Nuovo Testamento perché adesso voglio occuparmi ho scelto così ho cominciato così e quindi per il momento vado avanti così mi occupo dell'Antico Testamento il Nuovo Testamento però l'ho letto in greco e l'ho studiato nel corso della mia vita l'ho letto in greco almeno una quindicina di volte quindi l'ho studiato molto bene però non ne parlo però è a maggior è a maggior ragione interessante sentire cosa ne pensi allora le tesi gnostiche che tu hai così fedelmente esattamente riportato in effetti sono ovviamente il prodotto del pensiero ellenistico del tempo e questo pensiero ellenistico però ha colto una verità cioè che il Dio dell'Antico Testamento non è il Dio buono è un governante poi possiamo definirlo malvagio pluriassassino possiamo riconoscere il fatto che se non faceva così non raggiungeva il suo obiettivo perché lui ha preso un insieme di persone individui anarchici allevatori di capre o cose del genere e l'ha dovuto trasformare in un popolo quindi quando lui diceva voi siete un popolo di dura service beh insomma come dire voi capite soltanto le bastonate e lo possiamo capire quindi possiamo non dico giustificare ma capire perché lui ha dovuto attuare certi metodi di una ferocia poliziesca indescrivibile quindi quando gli ignostici dicono che il cosiddetto Dio dell'Antico Testamento ecco se vogliamo sottolineare un possibile non so come dire un errore ma è una parola grossa commesso dagli ignostici è usare la parola Dio la parola Dio non era un Dio ecco però che l'Antico Testamento fosse sotto un individuo che certo non era un individuo buono un individuo che amava l'umanità beh questo gli ignostici l'hanno capito chiarissimamente e quindi ed è la stessa cosa che dico anch'io se poi esiste Dio cosa di cui io non mi occupo perché io di Dio non so nulla del Dio diciamo dell'eventuale Dio vero io non so nulla io ho la buona abitudine di non parlare di cose che non conosco quindi io non ne so nulla ecco se poi esiste Dio beh è un'altra cosa cioè se esiste un Dio creatore dei cieli e della terra un Dio di amore benissimo esiste non lo metto in discussione perché io non ne so nulla di certo non è il Dio della Bibbia così come quando nel nuovo libro io documento che la Bibbia non parla di creazione io non intendo dire che non è mai esistita la creazione in assoluto perché io non lo so come sia nato l'universo questa è una domanda alla quale possono rispondere da un lato la fede per i credenti dall'altro prima o poi magari forse risponderà alla scienza io dico solo che la Bibbia non parla di creazione non che non ci sia mai stata la creazione in origine perché io non so come sia nato l'universo mi spiego quindi quando gli gnostici dicono che questo Yahweh della Bibbia non è il Dio buono il Dio d'amore hanno totalmente assolutamente ragione proprio è totalmente assolutamente un'altra cosa interessante molto interessante non so se siamo ancora nell'ambito dei fatti o di quello che emerge dalle traduzioni o se siamo già spingendoci nell'ambito della speculazione ma questi Elohim che governano la vita di diverse popolazioni fra cui quella ebrea per così tanti secoli se non millenni cioè com'è che scompaiono dalla vita di questo pianeta o forse dovrei dire se scompaiono o se per caso a tuo parere ancora potrebbero stare influendo in questo preciso momento magari nella storia umana o manipolando dietro le quinte i nostri destini allora siccome la Bibbia non dice nulla in merito e io cerco di attenermi alla Bibbia perché altrimenti poi mi dicono che faccio l'ufologo e quindi insomma già me ne dicono troppe quindi vorrei evitare di mettere sul fuoco altra benzina ecco esattamente perché poi ogni parola che io dico viene presa e mi viene come si dice ogni cosa che dici potrà essere usata contro di te in questi due anni ti garantisco che veramente questo sta avvenendo con una precisione veramente chirurgica allora diciamo questo diciamo questo che la Bibbia non ci dice nulla cioè da un certo punto in avanti si capisce solo il rapporto con questi qui quindi ti rispondo guarda con le parole di un reverendo presbiteriano statunitense di New York il reverendo Barry Downing il quale dal punto di vista della interpretazione ufolo lui è un credente in Dio lui svolge regolarmente il suo ministero di pastore presbiteriano quindi proprio anche a conferma di quello che ho detto due minuti fa che se poi esiste Dio è un'altra cosa ma quindi Dio può esistere quindi è ovviamente oggetto di fede allora lui dal punto di vista delle interpretazioni bibliche ufologiche è molto più avanti di me io sono molto più cauto rispetto a lui e lui ripeto è un pastore presbiteriano lui dice che questi qui sono venuti qui che la religione mosaica è il frutto del loro intervento chiaramente lui non ha nessun dubbio e che questi qui ancora controllano come si stanno sviluppando le cose questo lo dice padre Barry Downing col quale io tra l'altro rapporto diretto nel senso che ci scambiamo studi su una serie di passi biblici Mauro che dire a parte che dire a tutti gli ascoltatori che a questo punto Mauro Biglino ci ha dedicato se il mio cronometro non è errato già ben più di un'ora e quindi ringraziarti tantissimo sicuramente raccomandare a tutti gli ascoltatori assolutamente innanzitutto se uno ama vedere guardare ascoltare ci sono un'infinità di video delle conferenze delle conferenze che Mauro Biglino tiene settimanalmente in tutta Italia ormai da tanto tempo e devo dire infaticabilmente perché vedo che si è costantemente ogni weekend in una diversa città dici io ho una fortuna che vivo da solo quindi non devo discutere i miei orari e la mia vita con nessuno perché la mia vita è stata completamente stravolta come puoi immaginare e io vado solo dove mi chiamano cioè io non ho mai organizzato una conferenza e se la gente smette di chiamarmi io torno a fare ciò che facevo fino a due anni e mezzo fa che al sabato la domenica io pratico ciclismo al sabato la domenica io faccio ciclismo sulle Alpi Italo-Francesi cosa che ho dovuto abbandonare ma ripeto se la gente io non ho la vocazione come dire del missionario devo andare a predicare se la gente smette di chiamarmi o di fare conferenze perché non ne ho mai organizzato una in vita mia devo dire che ne ho di prenotate fino a novembre dell'anno prossimo però quindi temo che la gente caspita incredibile Mauro riepilogaci quali sono i libri che hai scritto fino ad ora e se vuoi dirci quali sono i tuoi progetti futuri o quelli che hai più a cuore o dove vedi andare il tuo lavoro insomma allora visto che abbiamo parlato anche di massoneria io ho scritto un libro che si intitola Chiesa Romana Cattolica e Massoneria realmente così diverse poi questo interesserà tantissimi dei nostri ascoltatori poi ed è un libro che non fa dietrologia ma mette a confronto i principi fondanti delle due organizzazioni così come sono dichiarati nei loro testi ok un'analisi parallela sinottica diciamo così poi ho scritto il libro si intitola così un titolo che insomma non è che mi piaccia ma insomma alle volte i titoli vengono discursi con gli editori il libro che cambierà per sempre le nostre idee sulla Bibbia poi ho scritto il Dio alieno della Bibbia e a fine ottobre esce non c'è creazione nella Bibbia hanno immagine una sorta di progressione nel discorso che fanno quindi magari sarebbe consigliabile guardarsene in un certo ordine allora diciamo che l'ordine esatto sarebbe quello che io ho detto però siccome appunto io non posso chiedere alle persone di comprarsi tutti i libri se vogliono conoscere le mie idee allora cosa succede che nei libri che pubblico io riprendo le idee espresse ovviamente parlo sempre di cose nuove ma nel contempo riprendo anche dei temi espressi nei libri precedenti e li sviluppo ulteriormente quindi volendo insomma non è che devo dire compratevi tutti e tre i libri biblici no fate come volete tanto riuscite a capire che cosa pensi bene altri progetti futuri veramente sarai più spesso diventerai famoso in America allora io non è che se io dirlo ma io sono sicuramente più conosciuto negli Stati Uniti che in Italia anche se là un libro cartaceo non c'è ancora so che in un libro di Jim Marsh che è uno che vende decine di milioni di coppie mi ha già scritto che nel suo libro che esce a fine febbraio mi citerà tre volte vabbè poi ci sono dei programmi insomma a livello internazionale che però per scaramanzia per adesso non non ne parlo e poi per restare in contatto con il tuo lavoro c'è anche il blog che probabilmente per restare in contatto con il mio lavoro la cosa migliore è iscrivervi perché io non posso più avere amici perché sono già 5.000 quindi Facebook non mi fa più aggiungere c'è il gruppo che si chiama il libro che cambierà per sempre le nostre idee sulla Bibbia quindi basta iscriversi a quel gruppo lì e rimaniamo in contatto gruppo Facebook perfetto Mauro come ringraziarti per tutto il tempo la saggezza le conoscenze di condiviso con noi grazie davvero ripeto siamo ben oltre l'ora quindi ti ringrazio a nome di tutti gli ascoltatori di Tempo di Cambiare ti auguro tutto il meglio per il proseguimento delle tue ricerche dei tuoi studi del tuo lavoro sono io che ringrazio voi dell'interesse per il mio lavoro che è una cosa che lo dico francamente mi stupisce sempre perché non riesco vabbè comunque niente ho cominciato così nel modo in cui vi ho raccontato e adesso ormai come dire sono finito nella pista da ballo e continuo a ballare perché non le posso più uscire ok molto bella questa immagine Mauro di nuovo tante grazie e buon proseguimento ciao a tutti e grazie a voi grazie ciao ciao grazie a tutti